secondo me non è una brutta mappa pure per i killer è parecchio aperta però oddio ci saranno più cose con due piani capito calcola che sarà un problema intervento corrotto pure prima non l'ho visto proprio sarà un problema allo shock con i pallet perché puoi rompere il muro dello shock prima il problema è che lo vuoi rompere da inizio partita quindi c'è ma perché me deve prendere sempre a me che se lo porti via finisco il gene che palle lo stesso modo di prima ho preso sempre uguale mi segue che vuole ma non mi vuole più vuole me io non sto dovendo ho capito stamattina c'è capisco una sega c'è ma preso è però sui loop questi qua così che devi far giro non è male la catena è infatti a me così mi ha preso sia la prima e la seconda volta cazzo qui cazzo è sì perché tu non ti muove eh no perché rimani l'ha bloccato nel manco al pallet e sto a far giallo è vicino al pianoporte niente ha visto il mondo ma saldino era preso pure il pop no no Ah, usi un babbo allo stesso modo! Eh, cazzo! Cazzo, senza board! Non durò! Beh, è tutto diverso! Chi lo va a salvare? Vado io! Sì, ma stiamo a 5 gem! Eh, io sto a finire quello sopra! C'è il borrowed, però! Ah, scusa, ma non si attiva il borrowed con quello! Questo non è possibile! Oh, c'è il borrowed! Perché non mi è disattivato? Muorivo, te vedo! Te vedo pure io! Eh, sta qui! Dov'è? Oh! Cioè, io da qui invece non lo sentivo! Non lo senti sto killer! Oh! No, ma vabbè, ma è un picasso! Oh, oh! Sì, sì, sì! Quando ti grabo sempre... Ti la metto qui, eh! No, 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 no! Ah, io! Cioè, stai a quel lupo e ti grabba! Cioè... Certo, qua! Cioè... Ma dove sto? Non lo so! Non lo sento io, per Dio! Ah, ok, l'ho visto! Ah, se non mi posso curare... No! Eh, non mi posso curare! Bob, dove sei? Eh, ce l'ha Bob! Ah, ok! Allora arrivate a prendere quello là solo! Ce sto pure io! Eh, se devo me curare... A me calcolami, dai! Non ce lo sto a me curare! No, stai che io lo sto in mending! MENDAMI! No! Ah, vabbè! Ah, vai! Tu ti puoi curare da sola? Sì, si fa un gianno! No! Verrà qua, dai! Eh, dobbiamo cercare di finirlo se c'ha il pop! Oddio! Si è aperto un altro buco! Che paura! Vi è passato qua! Oh, vabbè! Oh, vabbè! OUGH! Oh, vabbè! Come vuole! Noo, non mi ha mandato il dead hard! Che merda! Strano! Sto sotto pallet, raga! Ah, cazzo! No, dai, stavi lì Eh, perché mi sono incastrata col più quel coso The Dard col cuoricino Guarda, me l'ha pure lasciato il cuore La chioretta Io non so, ma sto killer non lo sento No, non lo sento neanche io E tra l'altro c'è il Dard è molto difficile a luppare quando ti grabba Sì Cioè no, quando ti grabba, oltre che di vincolarti, proprio poi so No, perché capito, tu giri per luppare, però lui ti... Poi non sai se sei hit o ti grabba Esatto Non si sente Spara random, stavamo dietro qua Eccolo Dov'è? Guarda, guarda, arriva Ah, ok, l'ho visto Ma se resto ferma io? Ok, non mi ha visto Ok, sta da bobotta Fammi spaccare un solde, no? Ce n'è pure uno là Dov'è? No, qua, dietro al muro, mi sa No, dietro al muro, dietro di me No No C'è un Gianna qua sempre in fondo alla strada Ti auguro, babbo No Oh, non lo sento Non lo sento Non lo sento Non lo sento Non mi posso curare Io sto sempre al Gianna in fondo Ma io non so dove cazzo sono i gen Sotto addossa la bobotta Ma che è? Oddio, un muro invisibile Oddio, che bug Oddio C'è un muro invisibile Oddio Ma dov'è? Eh, ma giù È una cosa dove farsi Sì Oh, perché cazzo Eh, non ho visto Eh, sono morto Grubba, fammi bobi Eh, sta da bobotta Sì, ma che è? Ma mi fai muro invisibili Eh, sono morto Dai, però invece di cura Potevate farmi bobi Ma sei morto, morto Sì No, comunque c'è Molte cose strane Nooo No, vabbè No, vabbè Sì No, vabbè 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 siamo proprio per fratte devo andare oddio non mi ha visto non lo so io so fa giro giro tondo trovata ti beccalo ti beccalo ti beccalo male te prego ciao daddy no no